Al momento mi trovo al parco con panchine e vista sul sesto calende, sono le 9.30 e ho appena spaccato il cavalletto. Sesto calende, sono le 10.30 e ho appena spaccato il cavalletto. Sesto calende, sono le 10.30 e ho appena spaccato il cavalletto. Sesto calende, sono le 10.30 e ho appena spaccato il cavalletto. Il percorso in quad è dinamico, può variare in base alle condizioni del terreno, però in linea di massima oggi partiremo e ci recheremo verso Sesona, lungo il torrente Strona, poi toccheremo Mornago dove è presente un maneggio e quindi a Besnate, frazione di Centenate. Tra l'altro questo itinerario interseca anche il percorso E1, percorribile interamente a piedi che da Caponord arriva fino in Sicilia. Andiamo così come si vede. Via così, cazzo! Vangue gloria! Rewind! 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 Grazie a tutti